Quindi il gol del 1 a 0, il gol del 2 a 1 sono sempre più importanti e il gol del 3 a 0 ovviamente. O del 4 a 0 a 9 a 10. Cosimène è uno di quelli che non solo è capocannoniere, ma è capocannoniere dei gol decisivi e dei gol che sbloccano la partita. Un leone fisicamente, uno che non ha paura di niente, con quella maschera poteva prendere attestate pure le traverse.